Con la mostra di Jody Bieber si completa una carrellata rapida, ma spero efficace, sulla fotografia contemporanea, su vari aspetti della nostra realtà, tre mondi diversi, l'Oriente con la Siria, l'Estremo Oriente con il Giappone, l'Africa con Jody Bieber. Sono sguardi che non solo sull'aspetto culturale di questi paesi, ma anche sull'aspetto sociale. Sono indicazioni che servono a tutti noi per comprendere, per avere meno timore, per avvicinarci con più fiducia agli altri. Credo che siano temi di attualità e mi auguro che anche il visitatore di questa mostra, oltre ad apprezzare la qualità artistica di Jody Bieber, ne capisca il senso, di una maggiore disponibilità a confrontarsi con gli altri.